La nostra associazione è chiamata a fare una nuova cultura di impresa, da rivoluzione analogica a rivoluzione digitale. Facciamo viaggiare i dati e non le persone. Questo è il punto focale della relazione del presidente di Confindustria Chieti Pescara, Silvano Pagliuca, ieri in occasione dell'Assemblea, l'Aurum alla presenza della presidente Boccia. La digitalizzazione riguarda tutti, ha detto Pagliuca, riguarda le imprese, i cittadini, ma soprattutto la pubblica amministrazione. Una pubblica amministrazione che funziona, che semplifica, agevola indirettamente il lavoro di tutti, soprattutto la vita delle imprese, rendendoci più competitivi e produttivi. Non dimentichiamoci, prosegue Pagliuca, che la digitalizzazione trova nella pubblica amministrazione il vero motore. In Abruzzo questa della semplificazione purtroppo sta diventando solo uno stanco ritornello a cui nessuno reagisce più. Su questo dovremo essere intransigenti e porre azioni di presidio continuo al fine di pretendere ciò che in altre regioni è già realtà. Per risolvere abbiamo bisogno di cultura del digitale a partire da una pubblica amministrazione capace di erogare servizi. Su questo dovremmo essere intransigenti. Intanto l'Assemblea è un momento per fare il punto della situazione e raccontare agli associati quello che abbiamo fatto. In particolare dal giorno del mio insediamento, che è l'8 marzo ad oggi, e anche di ciò che bolle in pentola per i prossimi mesi. Lo facciamo in una struttura molto bella, in questa bellissima architettura industriale. Noi puntiamo molto sull'innovazione. Sappiamo benissimo che solo attraverso l'innovazione potremo far fronte alle sfide che ci attendono. Chiaramente è un compito abbastanza difficile, ma che un'associazione deve avere, e cioè quello di fare cultura, perché il vero tema è culturale. Chiaramente è un'associazione potente.